Il turismo è un'opportunità mancata della nostra regione. La campagna è soltanto al sesto posto per spesa dei turisti rispetto al resto d'Italia. I turisti spendono di più in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, in Toscana e Lazio. Eppure questa terra potrebbe vivere di turismo perché ha delle eccellenze disseminate su tutto il territorio regionale. Qui vicino c'è Pompei, noi siamo a Stabia, alla Villa San Marco, una delle ville romane. Ebbene, a fronte di quasi 4 milioni di turisti all'anno che si regano a Pompei, solo poco più di 50 mila vengono a visitare le ville di Stabia, le ville romane. Tutto questo dice che non c'è una visione regionale che accompagni i turisti nella nostra regione alla scoperta delle meraviglie ed è quello che noi vogliamo fare. Il senso della visita di oggi è dire che ci sono potenzialità inespresse che noi vogliamo sviluppare. Puntiamo sulla realizzazione di una fiera del turismo internazionale che faccia arrivare in campagna i tour operator da ogni parte del mondo a cui mostrare tutto quello che normalmente i turisti non vedono quando vengono in campagna. Mostrargli i siti minori, mostrargli le aree interne con i borghi, mostrargli il turismo dei parchi, il turismo enogastronomico. Vogliamo far arrivare il mondo in campagna. Oggi siamo qui accompagnati dalle guide turistiche della campagna, dei professionisti che hanno subito più di ogni altra categoria il peso della crisi e per le quali non è stato fatto praticamente nulla. Noi abbiamo fatto delle proposte alla regione campagna che per ora sono rimaste sulla carta, ovvero utilizzare la professionalità delle guide turistiche in questo momento di crisi perché appunto potessero essere la voce narrante di monumenti, di siti del nostro territorio che neppure i campani conoscono. È vero che ci sono pochi turisti stranieri che sono arrivati in questo momento, ma ci sono tanti turisti italiani e turisti campani che neppure conoscono alcuni monumenti della campagna. Le guide potevano essere utilizzate per questo, per valorizzare tutto questo mondo nascosto che c'è in campagna. Ancora un'altra proposta. Bisogna rilanciare il turismo della campagna nel mondo attraverso campagne di marketing mirate. Utilizziamo la professionalità straordinaria delle nostre guide per farne le voci narranti del nostro patrimonio artistico, archeologica e culturale. Conoscono le lingue, hanno competenze storico e artistiche sul nostro patrimonio culturale, chi meglio di loro. Questo vuol dire restituire dignità a una professione straordinaria. Sì, purtroppo circa il 90% dei professionisti campani, tra guide ed accompagnatori, e siamo poco più di 3.000, non ha fruito dei bonus. Quest'anno è tragica, famiglie che sono in situazioni drammatiche davvero. Noi non chiediamo mero assistenzialismo, chiediamo sì un aiuto, un supporto, ma ci offriamo anche come divulgatori. Mettiamo a disposizione di tutti le nostre conoscenze, le nostre competenze per far conoscere il territorio.